Il gol subito ci dispiace, fa parte del gioco del calcio, tante volte l'abbiamo fatto noi, ma non toglie niente alla prestazione, all'impegno che i ragazzi ci hanno messo, alla qualità, l'intensità, Sampa ha fatto un'altra delle sue grandi partite, a questi ragazzi che ci sanno sorprendere, qualche volta capita anche di fare qualche errore, qualche battuta d'arresto, ma poi hanno tutti la maglia tatuata sulla pelle, è una squadra ligia, io sono orgoglioso di allenarli, poi sì, ci dispiace per il risultato, ma a me dispiace molto di più aver perso Pride, perché Fabio ha l'esperienza di anticipare le cose, invece Pride non mi è piaciuto e quindi perdere un giocatore forte, determinante come Pride mi dispiace molto, anche oggi ha fatto una partita di una qualità, un valore straordinario, questo è un giocatore di un'altra categoria. Abbiamo speso, ho visto i ragazzi in spogliatoio con fasciature, ghiaccio, abbiamo speso, abbiamo consumato, adesso bisogna recuperare, vediamo come stiamo per domenica, la squadra deve stare bene fisicamente e mentalmente.